e adesso veniamo a parlarvi del nuovo premier italiano giuseppe conte in quanto ci sono novità ma le novità non sono certo dal punto di vista della politica ma addirittura della cronaca e non riguardano nemmeno lui ma addirittura la suocera ricordiamo che attualmente giuseppe conte si trova in francia a colloquio con il primo ministro francese per cercare un accordo sui migranti ma ritorniamo a noi è venuto fuori che la suocera di giuseppe conte altri non è che l'attrice wowlin lanciata da tintobras come ribadisce di più dice il famoso attore tintobrassi di wowlin quando ho saputo che la suocera del presidente del consiglio è wowlin una delle attrici che io ho lanciato mi sono sorpreso l'attrice come il nome chiarisce è di origini svedesi e nella sua attività lavorativa è stata sia cantante che attrice ha lavorato negli anni 60 con gian luis trintignante negli anni 70 i film decamerotici che tanto andavano in quel periodo ma wowlin si è ritirata molto presto dall'attività lavorativa infatti già nel 1974 chiuse con il cinema per dedicarsi all'amore infatti andrà convivere con l'imprenditore romano cesare paladino da cui ebbe due figlie di cui olivia paladino ossia l'attuale compagna del premier giuseppe conte la signora inoltre gestisce il famoso hotel plazza della capitale che è stato proprio fondato dalla madre